Terza del convegno, buoni tre anni sul miglio, otto in prima, uno in secondo, sono in nove, ci sono due rapporti di scuderia, uno, quattro e cinque, sette, totalizzatore orientato verso Axel Degli Olivi, Vincenzo Luongo, Insalchi, numero tre, rinunciano Allegra e Ansel Dangal, gli altri bene a rete, prende velocità la macchina. Parte piano anche Alessandro Bar, via la macchina. Lotta serrata per il comando, poi emerge Axel Degli Olivi, per il momento fa quel che può appunto per cercare di poi di comandare a suo piacimento. Rimane a largo Amore Bello, tredici e quattro a partire, il due è subito a tabellone, sposta a Sexy Bonpar e si presenta su Axel Degli Olivi. E la targata pari, insiste, quarto iniziale, in ventinove e due, passa davanti alle tribune la Yankee Slide di Gaetano Di Nardo, ed è nuova leader. Si completano i 600 iniziali, 600 più che discreti, 43 e 4 da 1 a 12 e 3, e cavalichi affrontano la penultima curva. Non ci sono variazioni sostanziali, ora può leggermente graduare il buon Morgan Di Nardo, con la sua par, e completa il mezzo miglio in 58 e 8, 15 e 4 di frazione. In terza posizione, Aquila, a precedere Astrid del Ronco, un po' più lontano gli altri. Si completa il chilometro sostanzioso in 1'13 e 4, 500 alla meta, cavallichi affrontano la curva finale, a Sexy Bonpar, Axel, Aquila. Frazioni in 14 e mezzo, 1'27 e 9, 3 quarti di miglio, ci affaccia Aquila, ma subito Axel l'anticipa, viene via il targato Ulivi. Alla lì al completamente la curva finale, passa sul velluto, Axel dell'Ulivo pennellato dall'Omino, viene via la grande Aquila. E mentre Axel, almeno per il momento, parla un'altra lingua, c'è lotta incerta per il secondo posto, è il francesino con Astrid del Ronco, a precedere gli altri. 1'57 e 7, chapeau, 1'13 e 6, vittori da incorniciare, sia per il cavallo che per il suo driver, Vincenzo Luongo. Manda via la scatenata Sexy Bonpar, ne prende la scia chiaramente, indirittura ne dispone agevolmente. Corre alla grande Astrid del Ronco, che in zona traguardo, beffa gli avversari e porta a casa la seconda moneta. Per il terzo, Aquila appariglia completamente a Sexy Bonpar, costringendo il giudice alla fotografia, stretta, 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 ma molto stretta.